Musica 22-24 novembre, una ricca edizione che mette insieme sport e cultura e che prova a dare un segnale di continuità alle sette edizioni passate verso il 2019. Tante opere iscritte, la giuria ha dovuto davvero fare un lavoro imponente, credo che davvero i temi che andiamo a toccare siano interessanti e fruibili a gran parte del pubblico della città e non solo. Cito due numeri 68 e 70. Il 68, quest'anno celebriamo i 50 anni da quest'anno storico di rivoluzione, di cambiamento e il Film Festival non poteva che dedicare uno spettacolo anche a questo tema. Abbiamo infatti scelto uno spettacolo teatrale che è Pugni Chiusi, che racconta un po' una storia di controcopertina, quella di Peter Norman, l'atleta australiano nel podio famoso del 68, che insomma la sua storia merita di essere raccontata e invitiamo tutti davvero a goderla al teatro. L'altro numero che ricordavi prima era il 70 e ricorre infatti un anniversario importante per WISP, che è partner principale di questa organizzazione insieme alla Fondazione Materiatole 19. I 70 anni appunto sono le celebrazioni della nostra Costituzione dal 48 ad oggi e quindi una data che andava celebrata anche questa. Per altri giorni non mancheranno gli ospiti? No, ospiti importanti ma soprattutto ospiti che raccontano lo sport come piace a noi, insomma. Un primo ospite che avremo qui è Andrea Rucchetta, che giovedì ci fa l'onore e il piacere di essere presente nella nostra cerimonia di inaugurazione. Abbiamo Luca Corsolini, giornalista che collabora adesso con la Fondazione per tutto quello che è il tema legato allo sport. Uno sguardo che guarda alle donne e al loro protagonismo anche nella vita sportiva. Abbiamo due titoli, uno in concorso, uno fuori concorso, che raccontano storie di donne straordinarie. Una è Martina Caironi e quindi il film è Field Wind che invito tutti a venire a vedere alle 4 il pomeriggio al piccolo, sabato 24. L'altro invece è un film fuori concorso, un documentario realizzato da WISP nazionale. Il titolo è Capitane Coraggiose e narra infatti la storia del WISP vista dalle donne. Un sabato che sarà chiaramente proiettato sul discorso finale, quindi della cerimonia di previazione, ma che sarà anticipato da un esperimento che noi vogliamo portare a Matera e cui teniamo molto. È una rassegna che già da qualche anno è presente in Basilicata, Visioni Disturbate, che lavora su un concetto di fruizione per quanto riguarda i film e le produzioni cinematografiche da ragazzi con disturbi sensoriali e che proviamo quest'anno a legare il tema dello sport. Avremo un titolo che è fuori concorso, quindi perché rappresenta un modo di voler raccontare lo sport per tutti. Si chiama Jamie Grimble, il titolo del film. La proiezione sarà dalle 5.30 e lancerà la cerimonia di premiazione del festival.